Gentili telespettatori, buona giornata. In Forza Italia parlano di lealtà nel centrodestra. E viene da pensare, ma è uno scherzo? Perché ci c'è un detto siciliano, ma non lo posso dire, nel senso, fregano il posto a Lameloni e poi in maniera spocchiosa parlano anche di ci vuole lealtà nel centrodestra. Lealtà. Avete infranto le regole nel centrodestra che dicono che una persona uscente da un incarico ha la prelazione se vuole essere ricandidata. E quel posto che era di Fratelli d'Italia, che era un posto fondamentale per la democrazia nella televisione di Stato, l'opposizione che deve essere lì per controllare che cosa fa il governo con la televisione, sennò diventa un organo di propaganda. Adesso arriva la Garfagna e parla lealtà nel centrodestra. Lo sta dicendo contro il suo partito o fa finta? Perché sennò veramente diventa anche grottesco raccontare queste cose. La Garfagna dice per anni Forza Italia ha rincorso i sovranisti. Ora si cambia. Ora si cambia. Ma che è una canzone? Ora si cambia che avete il 6%. Forse è meglio visti i debiti che di 100 milioni, non 100 milioni di lire, 100 milioni di euro ha quel partito di debiti. Secondo me Berlusconi farebbe bene a chiudere la porta, dire a casa è finita, our feeders and goodbye, tutti a casa. 100 milioni di debiti. 100 milioni. Beh, la ministra per il sud dice che loro sono pro vaccini e sul centrodestra dice resterà unito se gli alleati saranno generosi e se noi rispetteremo il vincolo di lealtà. Alleati generosi. Cosa vuol dire alleati generosi? Vi devono regalare qualche votante. Già, votate anche per Forza Italia, dai, facciamola arrivare al 10. Cosa vuol dire gli alleati saranno generosi? Cos'è la generosità in politica? Carfagna, rispettare i vincoli di lealtà. Ma siete proprio voi che state distruggendo il centrodestra con il vostro capo Silvietto Caro? Ma veramente ci vuole un coraggio, come si dice, un pelo sullo stomaco per andare a raccontare ste frottole ai giornali? Beh, intanto sul Green Pass loro sono convintamente, come direbbe Cettola Qualunque, convintamente convinti che è l'alternativa alle chiusure. Ma questo lo penso anch'io. Lo penso anch'io. Vogliamo chiudere le attività o vogliamo entrarci col Green Pass? Beh, io non ho dubbi. E dice la Garfagna, anche la Lega se ne farà una ragione. Cara Garfagna, la Lega ha votato con il governo per il Green Pass, quindi non c'è... che vuol dire se ne farà una ragione? Salvini diceva no, 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 ma Giorgetti con la Lega, i ministri della Lega si stavano già mettendo d'accordo con Draghi per il Green Pass, quindi non c'è da farsi una ragione. Lo sapeva anche Salvini che il governo avrebbe votato sì all'unanimità sul Green Pass obbligatorio. Comunque, sembra che questi vivano in un altro mondo o raccontino quello che vogliono, quello che credono sia corretto dire agli italiani per prenderli in giro. E poi dice voglio vedere chi avrà il coraggio di dire ma andiamo a casa Draghi, io saprei far meglio. E sorride. Ma che te ridi? Giorgia Meloni potrebbe dire tranquillamente ma andiamo a casa Draghi, io saprei fare meglio. Ma te lo direbbe anche Conte, te lo direbbe anche Letta, anche Salvini, anche Renzi. Tutti in politica i capi politici hanno la presunzione, come è giusto che sia, di poter far meglio degli altri. Sennò che capi politici sono? E che te ridi, ma che te ridi. Beh, dice a patto che gli alleati sappiano agire con generosità. Boh. E forse Italia non si schiacci sulle posizioni leghiste. Come sta già facendo e rispetti il vincolo di lealtà con gli alleati che l'ha sempre contraddistinta. Vabbè. Draghi è stato poi duro con Salvini. Si aspetta uno strappo della Lega, chiede il giornalista all'esponente di Forza Italia. Dice non credo, nella Lega penso ai governatori del Nord, c'è un robusto consenso per ogni misura che favorisce la ripresa. Cosa centrano i governatori del Nord con quello che decide Salvini e la Lega a Roma? Sono due cose differenti, non comandano i governatori. I governatori intanto sono presidenti di regione, non governano un bel niente. Non è il governatore del Texas, non è Schwarzenegger, non è il governatore della California. I nostri non governano uno Stato. L'Italia non è uno Stato federale con i governatori. Bisogna imitare gli Stati Uniti, il governatore. Anch'io dove vivo qua c'è il governatore. Ma lì in Italia che ti governi? È presidente di regione. È una suddivisione amministrativa la regione e il presidente non governa un bel niente. Quindi Carfagna lascia perdere i governatori. Cosa centrano i governatori che poi sono i presidenti di regione? E poi gli chiede, ma è un problema che si allega che Fratelli d'Italia strizzino l'occhio a un certo mondo? Vabbè, questo lasciamo perdere. Poi si parla dello scontro sulla Rai. Come si ricuce? Dice il tema è tutto politico, assai più largo della Rai. La gara per la primogenitura tra Salvini e Meloni rischia di trasformarsi in un stress test quotidiano. Allora, la primogenitura Salvini e Meloni. Qui stiamo parlando che il Rai, voi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, gli avete fregato rompendo le regole nel centrodestra il posto alla Meloni. Quindi lascia perdere Salvini e Meloni, Garfagna. Il problema siete voi che avete fregato il posto a Fratelli d'Italia. Non parlare di Salvini e Meloni. Dice il centrodestra dove sono cresciuto, guidato da Berlusconi, ma Berlusconi non guida più niente, trasformava le differenze tra partner e la competizione interna in valore aggiunto. Ebbè, alla faccia del valore aggiunto. Il PDL è stato sciolto, ha dovuto Berlusconi rifondare Forza Italia e Giorgia Meloni ha rifondato dalle ceneri quello che rimaneva di alleanza nazionale, alla faccia che dove sei cresciuta Berlusconi trasformava le differenze in valore aggiunto. È un bel valore aggiunto. Chiunque aspiri a guidare la coalizione dovrebbe trovare quel tipo di equilibrio e generosità. Gara Garfagna, la coalizione o la guiderà Salvini o la guiderà Meloni. Tu e Forza Italia rassegnatevi che non guiderete proprio neanche la macchina, credo. E poi aggiunge le rotture non converrebbero a nessuno, neanche alla Meloni. I sondaggi danno Fratelli d'Italia come primo partito, anche se di poco. Rivendicare la guida del centrodestra e al tempo stesso sfasciare gli accordi del centrodestra sarebbe contraddittorio. Su dopo Draghi che dire? Beh, insomma, siete voi di Forza Italia che state sfasciando gli accordi nel centrodestra. Uno verrebbe a dire arripigliate, no? Beh, insomma, poi l'intervista va avanti, ma non è il caso di soffermarsi troppo su quello che dice Garfagna. Più che altro io volevo farvi capire quello che pensa Forza Italia, perché a me di questa politica di Forza Italia non me interessa assolutamente nulla. Grazie a tutti e arrivederci.